dai faccio hai sentito qua qui tu oh vai vado vai son fatto so fuori e te mi ho cacciato fuori e ne devi andare ha me ne vado e' se tu fuori è stato forte a 5 metri rontanami non puoi fare però somma io quando ti dico lo devo stare teni di andare tu vado cattolo fa n'ho i tuoi me lo vado già da vado tu vado 8 orato perché vado a fare ecco la paura ondo per riempie roma no edu indigeno l'intervento è il 2 settembre come andate voi come andate voi ammita l'amico di guido youtube è un amico di guido youtube vigilati lancivalo Grazie a tutti.